Bassano, primo giorno di lavoro oggi per il nuovo direttore dei musei civici, Chiara Casarin, 41 anni, laurea in semiotica dell'arte alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna, dottorato di ricerca in storia dell'architettura della città, scienze delle arti e restauro alla Scuola degli Studi Avanzati di Venezia, nel curriculum un anno di formazione presso il Centro di Ricerca di Parigi, docente alla Cafoscari, curatrice di numerose mostre e pubblicazioni, ha iniziato a farsi un'idea della situazione in cui si trovano le strutture bassanesi vocate al mantenimento e alla divulgazione della cultura cittadina. Come già annunciato nei nostri servizi all'indomani della sua nomina, la Casarin utilizzerà i primi giorni di insediamento per una valutazione generale, per poi partire con i lavori di rilancio dei musei di Bassano.